Nel girone B della massima serie regionale, il Gela è chiamato una risposta dopo la nefasta trasferta di Paternò, terminata con il risultato di 7 a 1. Domenica prossima, 14 gennaio, arriverà allo stadio Presti il Real Siracusa con l'intento di dare continuità alla convincente vittoria contro il Santa Croce e consolidare il quarto posto in classifica appena un punto sopra il sodalizio gelese, uno scontro di diretto ad alta tensione che i biancoazzurri non possono permettersi di sbagliare nell'intento di rianimare una piazza nello sconforto e con il morale demolito dalla capitolazione di Paternò. Il tutto in una settimana in cui la società gelese ha indetto il silenzio stampa al fine di garantire, si legge nella nota, la massima serenità nell'affrontare importanti decisioni da prendere e le imminenti sfide sportive nel campionato di eccellenza. È sempre la stessa società a termine di un lungo e sereno confronto con il Consiglio di Amministrazione Biancoazzurra a decidere di rinnovare la compattezza attorno al progetto societario e sportivo già in essere. La decisione è stata presa, racconta il comunicato, affinché l'attuale assetto possa portare avanti tutti i progetti sportivi in cantiere e la massima competizione regionale con onore e rispetto per tutti gli appassionati che seguono da anni la squadra che rappresenta la città di Gela. Questo è il programma della diciassettesima giornata di eccellenza del Girone B. Sabato alle 14.30 Messana Milazzo, Santa Croce Mister Bianco. Alle 15 Atletico Catania Leon Fortese. Domenica alle 14.30 Gela Real Siracusa. Leonzio Ionica. Modica Rocca Acquedolcese. Alle 15 Mazzarrone Enna Chiude Nebrus Paternò.